Grazie Grazie Noi non abbiamo mai cantato a Chicago prima d'oggi cantiamo 40 anni nemmeno festeggiare sempre non nemmeno festeggiare in Chicago la prima volta che stanno festeggiando in Chicago e è la loro attività di 40 anni quindi sono felice di festeggiare e di essere qui con voi Siete un pubblico magnifico e per questa ragione faremo un finale molto bello assieme a tutti voi che proverete un'emozione mai più fatta nella vita Siete un pubblico magnifico e per questo motivo vogliono riempirarti per performare la ultima parte di Alamosai intanto adesso intanto adesso il pezzo che presentiamo gode dell'accompagnamento con il pubblico vi dimostriamo la unicità musicale dello strumento con le canne e delle voce adesso adesso sentirete una per una le canne e una per una le voci la camera lunga della launeta si chiama Dumbu questo suono grave questo suono grave questo suono grave somiglia alla voce del basso del supermore che si chiama oh la seconda canna delle romella si chiama mancosa la seconda canna della mancosa nel tenore la voce mediana si chiama codra viva la terza voce è della medes mancosella si chiama mancosella la voce la voce le tre voci sommate fanno questa voce adesso adesso presentirete la sede la famiglia è l'oneta che che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.